I tre ponti a Livorno potrebbero chiudere prima di Pasqua per poi essere demoliti. I segni dell'alluvione del 2017 sono sempre presenti sul lungomare labronico. Il ponte Bailey, alternativa rimovibile, prosegue nella sua costruzione. Operai al lavoro per la progettazione di un ponte ad un'unica arcata, per alcuni sottoservizi, collocati più in profondità, si stanno conducendo indagini al georadar per evitare il rischio di imbattersi in residui bellici. Si sta ultimando lo spostamento della fognatura nera, che probabilmente risulta il più complesso di tutti e che serve pure le utenze di Banditella. La parte destinata alla carreggiata del ponte a Traliccio si presenta larga, abbastanza per consentire il passaggio contemporaneo di due bus, che procedono in senso contrario ed è già pronta e collaudata per ricevere il passaggio dei veicoli. Presenti anche due passerelle per accogliere il passaggio dei pedoni. Per il completamento dello spostamento dei sottoservizi si dovrebbe giungere attorno al 15 marzo, con l'obiettivo di arrivare nella seconda metà del prossimo mese a trasferire la viabilità sul ponte Bailey.